Solitamente il risparmio gestito è denigrato per gli alti costi. In realtà, come in ogni cosa, è bene distinguere le cose buone dalle cose cattive e sicuramente tra le prime rientra il servizio SmartSave. Ciao, io sono Federico e benvenuti su The New Finance. Prima di iniziare vi invito a mettermi piace a questo video, ad iscrivervi al canale per non perdere i miei video futuri. Di solito, quando qualcuno si vuole approcciare al mondo degli investimenti e non ha un grande capitale, quello che si consiglia è sempre la stessa cosa. Fai un pack su un ETF azionario a tua scelta e vi andare. È chiaro che se i costi vengono gestiti bene, questa è una soluzione ottima. Un buon pack su VVCE potrebbe essere sicuramente vincente rispetto alla maggior parte delle altre soluzioni di investimento. Ma attenzione, perché non tutti vogliono accettare un grado di rischio così elevato. E qui si insinua SmartSave. SmartSave è un servizio disponibile per i clienti in Tesa San Paolo. Può essere attivato dall'applicazione, è gratuito, ma richiede un deposito amministrato. Il servizio ci permette di scegliere tra quattro fondi diversi. Il fondo obiettivo risparmio e i tre fondi soluzione ESG 10, 40 e 60. Questi ultimi sono distinti dal numero nel nome che indica la presenutale massima di azionario. Ovviamente la soluzione ESG 60 è quello più rischioso ed è anche quello che io consiglierei onestamente ai giovani che vogliono iniziare ad investire. Io vedo che nessuno parla di questo servizio, forse perché da un lato è giovane, ma io credo che non ne parli nessuno semplicemente perché, essendo un servizio offerto da una banca tradizionale, è a prescindere sbagliato. Non funziona così? In realtà ci sono diverse considerazioni da fare. I fondi che vi ho detto prima sono fondi che esistono da tanti anni, ma è stata creata una classe appositamente per Smart Save, che è la classe S. La classe S di questi fondi non ha costi di ingresso, non ha costi di uscita, non ha diritti fissi, ha solo costi di gestione e commissioni di overperformance. Tra l'altro i costi di gestione sono ridotti mediamente del 30-35% e vanno da uno 0,35% di obiettivo risparmio all'1,1% di soluzione 60. Oltre a un regime di costi estremamente competitivo, Smart Save ci consente di investire anche solo 5€. L'importo minimo quindi è bassissimo, proprio perché noi non paghiamo nulla al momento del versamento. Quindi anche solo investendo 5€ noi abbiamo un investimento con zero costi, se non quelli di gestione e di overperformance. Ricordo che i costi di overperformance sono quei costi che le SGR si trattengono, sono delle commissioni, quando battono il benchmark si trattengono una percentuale di questo rendimento aggiuntivo, una sorta di premio per aver lavorato bene. La cosa positiva di Smart Save è l'importo minimo, come dicevo di 5€, ma io posso attivare anche un pack addirittura settimanale con un importo minimo ancora una volta di 5€. Ma vediamo le performance. Come potete vedere, grazie ai costi ribassati non solo fanno molto meglio dell'altra classe degli stessi fondi, la classe A, ma possono competere con i Vanguard Live Strategy. Ho confrontato solamente i soluzioni 40-60 con i Live Strategy 40-60, perché penso che siano le soluzioni più interessanti del servizio Smart Save. Sono conteggiati i costi di gestione. E nonostante nei soluzioni i costi di gestione siano più elevati, ciò che fa la differenza è che non sono conteggiati i costi di acquisto delle quote di un ETF. Vi ricordo che acquistare un ETF o un'azione o un'obbligazione con un vostro broker ha un costo. Quel costo va considerato, perché vi va a ridurre il capitale. Su importi piccoli, quel costo può essere anche molto penalizzante. Ed è per questo che i pack sugli ETF sono spesso problematici da gestire. Bene, quel costo su Smart Save non lo abbiamo. E tra l'altro, spesso e volentieri, i rendimenti che si ottengono sono addirittura migliori di quelli dei Live Strategy. Sia i fondi Smart Save sia i Live Strategy sono però giovani e lo storico è piuttosto breve. Quindi questo confronto va preso con le pinze. Sappiate che se investite 1000€ con Smart Save pagate zero al momento in cui fate l'operazione. Avrete i costi di gestione poi ed eventualmente quelli di overperformance. Se invece investite 1000€ in un ETF, avete i costi di gestione dell'ETF più altri costi e vi metto in descrizione il link che vi mostra i veri costi dell'ETF, ma soprattutto quelli che pesano di più sono i costi dovuti all'operazione, cioè l'acquisto delle quote di quell'ETF sul mercato. Solitamente di pochi euro, ma che incidono. Per chi vuole quindi flessibilità e vuole iniziare ad investire su un prodotto bilanciato e non totalmente azionario, io penso che Smart Save sia una piccola gemma. Pochi ne parlano, purtroppo, ma lo trovo un servizio geniale, con un regime di costi competitivo. Se tutto il risparmio gestito avesse un regime di costi di questo tipo, sicuramente il confronto tra gestione attiva e gestione passiva sarebbe più semplice da affrontare e la gestione attiva si vedrebbe diversi risultati a favore. Ma la direzione è quella giusta. Servirebbero più prodotti di questo tipo. Voi che ne pensate? Lo conoscerete già? Scrivetelo nei commenti. Io vi ringrazio per avermi dato attenzione, vi invito a mettere un mi piace a questo video, ad iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.